È arrivato il momento di farti vedere cosa abbiamo fatto nella tua camera da letto. Possiamo vedere? Guarda bene. Ecco qua. Questa è la variccia sua. No, non ha... No! No, con le scarpe no! No! Mi hai scappato. Ma no! Andiamo al bagno. Vieni qua, scinti! Non schizzare! Scinti! Ma dobbiamo... No! Qua! Oh, il bike! Basta! Pure il bike, ma avete... Andiamo! No! Scintilla! No, 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 no! No, sul letto, no! No, sul letto non si può fare! Non si può fare! Non si può fare! No! No, fai bene! Ma non è sì... Ma che cosa... Fa finta di coppare i capelli? E adesso scappa!